Aveva appena 21 anni ed era già sposato. Vincenzo Tortora lascia la moglie e un figlio piccolo. Era il figlio di un ex operaio del comune. Era sposato anche Pasquale di Balsamo, più grande di Vincenzo e soltanto di un anno. Dunque due giovanissimi, ma già con un passato criminale alle spalle e morti sotto i colpi di pistola la scorsa notta da Cerra. Due giovani con una vita già da grande, con tatuaggi sui corpi che ostentano l'appartenenza al clan. Oscuro ancora il movente del duplice omicidio, scaturito dal duello da far west. Vecchie ruggini da regolare, offese, ma forse qualcosa di più. I carabinieri ipotizzano una lotta nell'ambito del traffico di droga. Certo è che Pasquale di Balsamo e Vincenzo Tortora, poco più di vent'anni, giravano per a Cerra sempre armati. Fatto sta che l'altra notte, a luna, l'odio tra i due ha alimentato scene tremende da far west. Hanno iniziato a inseguirsi a vicenda all'altezza di Largo Soriano, dove appunto c'è la lapide dei caduti, omaggiata dal capo dello stato appena quattro giorni prima. Di Balsamo viaggiava su uno scooter, non è ancora chiaro se da solo o con qualcun altro. Tortora invece era a bordo di un'auto, probabilmente in compagnia, a quanto trapella dagli inquirenti. I duellanti hanno iniziato a spararsi a vicenda, da lì poi l'inseguimento, terminato tra le stradine del centro, quando, cioè, i due ragazzi si sono colpiti in pieno, investiti da una gragnuola di colpi. Sono arrivati al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori, a distanza di un quarto d'ora l'uno dall'altro.